L'azienda agricola ci era posto il problema appunto di avere un telo che si degradasse con la cultura man mano che la cultura procedeva nella sua maturazione. Abbiamo fatto delle prove con Mater B e abbiamo visto che il telo era perfetto, si sposava perfettamente alla cultura del riso e da lì è partita praticamente l'impiego su quasi tutta la superficie dell'azienda. Porta poi il riso alla maturazione senza malerbe, senza problemi di nessun tipo, senza problemi di attacchi fungini alle culture. È importantissimo per la nostra azienda per avere un prodotto anche più salvo per il consumatore. Con Novamont noi abbiamo trovato un partner che per qualsiasi cosa ci ascolta e abbiamo trovato veramente la massima disponibilità da parte degli agronomi Novamont. La rigenerazione ambientale per noi ha significato usare praticamente un telo, introdurre una nuova tecnologia nel settore riso a impatto zero.